È troppo grasso per me. Gesù, il pignato malitato si capisce che è grasso. Dai. Assaggiamo queste granatine. Tiè, passi qua. Ma che so queste cose? Granatine le ha fatte Leonora. Ma sono dolci. Che ci hai messo dentro? Zucchero e canella. Noi le facciamo così alla portoghese. Dovrò prima, basta. L'autriere sono rimasto di cerballato. Ancora non sei pronta? Sbrigati che le ha messi a suonata. Andate pure, grazie. E tu vieni con Pasquale? No, credo che non verrò. Ma oggi è domenica. Leggiti qualche orazione, almeno. Non ti permettere più. Non mancare più di rispetto alle mie sorelle. Guai a te se vengono a lamentarsi un'altra volta.